Si riparte col corner per il Napoli. Trossa verso il centro. Miracolo del portiere. Che sventa il tiro qui. Ma che riflessi Pierre. Davvero una parata eccezionale. Ha spazio per avanzare. Guadagna metri. La traiettoria verso il centro. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Se magari si affideranno a difesa e contropiede. Per sfruttare eventuali spazi. Ballone che si è inzaccato. E il portiere. Non ha potuto nulla. L'attaccante è bravo qui a ravventarsi su questo cross dalla destra. E a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida. No, no, no. Cross perfetto per l'attaccante che non si è fatto pregare. E l'ha messa dentro. Ottimo listeremente della conclusione. Niente da fare per il portiere.